Brancaccio si sono radunati amici e collaboratori per un ultimo saluto. Per noi c'è Roberta Mendola. Sul maxi schermo qui in via Merulana, Civico 244, le immagini in diretta del funerale Petro che lascia la chiesa degli artisti in Piazza del Popolo per arrivare virtualmente qui al Teatro Brancaccio di Roma, qui dove sulla Sara Cinesca all'ingresso del teatro è stato scoperto il grande murale dedicato al maestro, un ritratto di Maupal, l'artista che ha dipinto il Papa, Borgopio, colonna sonora, le note, le voci dei piccoli cantori di Torre Spaccata, il coro che accompagnò Gigi Proietti in Preferisco il Paradiso, il grazie infinito della sua città. Padre Lucio, l'arte e la gentilezza, i sorrisi, le voci che si tramandano di generazione in generazione. Eh sì, questi sono i piccoli cantori di Torre Spaccata che dieci anni fa cantarono con Gigi Proietti proprio questa canzoncina Paradiso, Preferisco il Paradiso. Ed ora sono cresciuti ma sono ancora qui a dir grazie, grazie. Come lo sta dicendo l'intera città, questa è una piccola testimonianza. San Brancaccio dove dal 2001 al 2007 Gigi Proietti fu direttore artistico ma la sua storia inizia molto lontano. Prima, sì, nel 78, quando riaprì questo teatro a teatro con Gaetanaccio e Gigi Magno e Gigi Longobardi, i tre Gigi diedero vita a questa lunga storia e dove Gigi venne consacrato. Credo che abbiamo interpretato al meglio questo momento per dare voce a tutto Via Merulana, a tutto San Giovanni, a tutta Roma che ama Gigi ed era un momento fuori dal contesto di Piazza del Popolo. Alessandro Longobardi, direttore artistico del Teatro Brancaccio di Roma. Qua da Via Merulana è tutto, da Via Merulana che è un pezzo di cuore della città di Gigi. Grazie maestro. Ed è tutto anche per questo.